primo round si sta per partire con questo primo round qui siamo dal coccolocco di Freggene parte a testa bassa in zinna con serie a due mani si sposta bene Scarponi in zinna va vuoto se Scarponi non si mette al centro ring non sarà facile rimpostare il match dalla lunga distanza dovrebbe in qualche maniera uscire lateralmente perché andare semplicemente indietro non basta non basta mettersi nella posizione giusta per poter replicare perché in zinna sta andando avanti a testa bassa non vede altre direzioni se non quella di andare avanti Scarponi adesso prova in qualche misura a replicare ma questo in zinna è veramente scorbutico bello adesso il destro di Scarponi che arriva a segno ancora combinazioni dalla lunga distanza per Scarponi che comunque sia sta questa fase soffrendo un pochino questa iniziativa di in zinna a vuoto adesso in zinna a segno invece Scarponi con un bel diretto destro questi pugni sembrano sembrano lenti sono lenti ma vi assicuro che sono pesanti perché chiaramente sono portati da ragazzi che pesano più di 91 kg si scioglie un po' adesso Scarponi che palesa una leggera pesantezza sulle braccia ma ecco che va a segno con i suoi diretti bellissimi diretto destro anche l'arbitro pensa sia andato a segno con molta forza per cui adesso conta per far recuperare per vedere se in zinna può continuare il match il match continua ancora Scarponi con bei diretti a vuoto in zinna che comunque sia continuano ad andare avanti nella speranza di di cogliere il suo avversario in effetti con qualche colpo sta andando a segno ma secondo me i colpi migliori sono quelli di Scarponi e infatti anche l'arbitro richiama in zinna a una maggiore compostezza faccio un video ma non preoccuparti posso? certo certo poi ci stanno facendo il video al video che facciamo una diretta una diretta nella diretta scusate ragazzi abbiamo ecco adesso che Scarponi porta a segno un bellissimo un bellissimo colpo che un altro destro Scarponi ha trovato questo la strada per il destro che comunque ha detto che avrebbe combattuto questa volta e poi basta vediamo se se con questa vittoria così veloce non gli sia tornata in realtà la voglia di fare altri match ma siamo pronti per il verdetto vediamo il verdetto vince ai blu vince per rsc alla prima ripresa vince l'angolo blu Matteo che ci sta dentro per rsc Scarponi Scarponi appunto perché l'arbitro ha deciso che il match doveva essere sospeso si prepari l'opera l'arbitro